Arezzo ha tre giovani piloti, giovanissimi, associazione motociclistica chetina che porteranno in alto il nome di Arezzo. Ti chiami? Morgan Vennati. Allora, raccontaci un po' quando hai iniziato e che gare affronterai. Allora, ho iniziato a tre anni e ho fatto il campionato toscano, l'italiano e qualche gara del campionato europeo. E come sono andate queste gare? Bene. Quindi è la moto della tua grande passione da sempre? Sì. Fino da quando avevi tre anni? Sì. E nel futuro a che cosa ti aspetta? Mi piacerebbe diventare il campione del mondo. Diciamo un sogno da poco. Bene, te l'auguriamo adesso a fare delle gare a breve? No, ora sono finite e rinizieranno nel mese di marzo. Ti chiami? Elia Damandi. Quanti anni hai? Nove. Allora, tu invece quando hai iniziato? L'anno scorso. Ti ricordi la prima gara? Che cosa ti ricordi della prima volta che sei andato in moto? Le prime volte sono andato in moto, le prime gare ho fatto e le ho vinte quasi tutte. Bene. E adesso invece ti aspettano altre gare? Sì, nel mese di marzo. Nel mese di marzo. Quindi ti stai preparando? Sì. Bene. E la moto per te cosa rappresenta? Che cos'è per te la moto? La tua grande passione? Sì. Di dove sei? Di Faella. Di Faella, quindi Valdarno. Mh. Sì. E il tuo sogno qual è invece? Ehm, come il suo. Campione del mondo. Tu sei il più piccolo, quanti anni hai? Otto. Ti chiami? Ayrton. Hai un nome importante, sai chi era Ayrton, no? Sì, l'ha scelto in mio papo perché gli piaceva tanto le macchine. E gli piaceva questo grande campione. Mh. Ecco, spieghiamo che questo nome ti porti bene. Senti, tu hai iniziato da quanto? A tre anni. Sì. A sei anni ho iniziato a fare le gare. Ti è piaciuta fin da subito? Mi è piaciuta fin da subito. Fin da subito. Qualche gara ce la voglio raccontare se te la ricordi una gara che hai fatto? Non me la ricordo. Non me la ricordo. E adesso anche tu a marzo? Questo qua non lo so. Non lo so. Ma so che c'è stato un piccolo problema ieri? Sì. Che è successo? Mi sei rossa la moto. Mi sei rossa la moto e che cosa è successo? Sei caduto o no? Sono caduto e non mi riuscivo ad accendere perché la pedana per accendere era troppo dura. E vabbè, sono cose che capitano. Sì. Il tuo sogno? È diventare il campione del mondo. Mi siete messi d'accordo. Alla maniera. Anni? Sei. Sette sì. L'hai compiuto nel fratello? Sì. Tu sei il fratello di... Sì. Di quello nel mezzo. Di quello nel mezzo. Anche tu passione per la moto? Sì. Tu da quanto? Hai iniziato ovviamente prima il fratello, poi hai iniziato tu? Eh, non lo so. Non lo sai. È lui che te l'ha trasmessa questa passione? O ce l'avevi da... Il babbo. Sempre il babbo. Che cosa vuoi fare in futuro? Vuoi diventare... Pensa, pensa. Vuoi fare tante gare? Vuoi diventare... Vuoi vincere? Vuoi avere 2.500 coppe. Coppe? Beh, quindi insomma... Tante coppe, come lui. Bene, grazie.